Ciao ragazzi, oggi vi mostro da parte dell'azienda Sal Digital Photoservice questo magnifico pacchetto, praticamente ho provato il nuovo servizio del fotolibro Foto Professional Line è un fotolibro che io ho scelto con le foto del mio trentesimo, io ho preso questa copertina in pelle e ho aggiunto queste clip art a tema appunto per il compleanno, davvero bellissimo, come potete vedere l'effetto è scenografico, di dietro non ho messo niente, ho scelto una quarantina di pagine credo, perché sì, perché adesso non ricordo, comunque l'ordine è arrivato in anticipo, più o meno tre giorni ecco qua il fotolibro, aprendolo già subito ho scelto questa foto e poi ho messo questa clip art con scritto Happy Birthday, come potete vedere ho scelto una carta fotografica opaca che al tatto è veramente fantastico anche qui c'è un tutt'uno e non si vede il distacco tra la carta e la foto perché praticamente è stampata proprio sul foglio essendo un fotolibro qui vabbè ho fatto la foto 30 anni e non sentirli per intero poi qui vi faccio vedere l'altra foto per intero che ho scelto aspetta vi faccio vedere nel dettaglio proprio meraviglioso e adesso vi faccio vedere le altre foto eccole qua ho scelto appunto queste clip art proprio anche all'interno del fotolibro come potete vedere è meraviglioso questo fotolibro, cioè io lo adoro anche qui guardate stupendo veramente io ringrazio l'azienda Sal Digital per avermi dato l'opportunità di poter provare questo fotolibro professional online l'ho sfruttato al meglio perché comunque c'è stata l'occasione del mio trentesimo e sono stata davvero soddisfatta è veramente stupendo perché lo potete usare questo fotolibro per qualsiasi occasione quindi non per forza ci deve essere un evento ma anche per poter salvare le vostre foto di un viaggio quindi li potete stampare in questo fotolibro anche perché avete 30 euro di sconto che sarebbe il codice sconto di benvenuto che adesso ve lo lascio qui sotto scritto e comunque potete scegliere qualsiasi copertina di qualsiasi colore, qualsiasi clip art ma anche se volete mettere qualche foto al centro qualsiasi cosa e poi comunque le foto vengono veramente spettacolari vi lascio il tutto potete vedere andando sul sito sal digital potete vedere che c'è il codice sconto benvenuto del fotolibro professional online di 30 euro qui troverete il codice e poi scaricando un software potete che comunque si può trovare sia sul computer o comunque su play store e potete comunque ordinare il vostro fotolibro io ho scelto questo fotolibro professionale 30x21 e potete scegliere il vostro colore, quante pagine, anche la copertina, la superficie della copertina le pagine come devono essere, carta fotografica opaca e tutto il resto vi consiglio di dare un'occhiata al sito e vi lascio tutto qui sotto vi consiglio di dare un'occhiata al sito